E' nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Marsala che è la Guardia di Finanza di Castelvetrano ha sequestrato un magazzino Gran Bazar di proprietà di un imprenditore di nazionalità cinese. L'accuso a suo carico è quella di fatture false e somministrazione di lavoro illegale. Applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti dell'imprenditore, la verifica fiscale effettuata ha permesso di accertare che la ditta, di proprietà del cinese, avrebbe sottratto allo Stato imposto per oltre 1,4 milioni di euro nell'ambito di quello che viene definito un collaudato sistema di frode fiscale connesso all'utilizzazione di numerosissime fatture per azioni inesistenti emesse da 31 imprese e fantasma, 26 di dichiarate nei principali poli commerciali italiani tra cui Roma, Milano, Napoli, Venezia e Prato. Sono più di 1.100 le fatture individuate dai finanzieri nella contabilità della ditta, ditta accusata di avere registrato costi fittizi potendo abbattere i grossi utili conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale. Per l'anno di imposto 2015 l'imprenditore avrebbe omesso completamente la presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie nascondendo così all'erario redditi per oltre 1,7 milioni. Le fiamme gialle ritengono che quello venuto fuori sia un sistema fraudolento fatto di ripetute evasioni che hanno consentito alle imprese di azzerare completamente le imposte da pagare. Ma non finisce qui. La tenenza di Castelvetrano ha anche scoperto che chi lavorava in quel gran bazar lo avrebbe fatto in nero. All'interno dell'area commerciale di oltre 2.100 metri quadrati infatti le fiamme gialle all'atto dell'inizio della verifica fiscale avevano individuato quattro commessi che però erano privi di qualsivoglia contratto di lavoro mentre altri sette ne erano stati scoperti in precedenti controlli ispettivi. In tutto sono 32 le persone denunciate a vario titolo per l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture false, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi. Per la Guardia di Finanza sussistono gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari e la posizione dell'imprenditore viene considerata ad elevata pericolosità fiscale. Da qui la decisione del GIP del Tribunale di Marsala di imporre l'obbligo di dimora nei confronti del cinese beneficiario della frode fiscale e il sequestro di denaro bene e ogni altra utilità, lo stesso riconducibili, fino alla somma di 1.473.000 euro. Tra i beni sottoposti al sequestro dai finanzieri vi è anche la stessa azienda la cui gestione era stata formalmente affidata ai familiari del principale indagato per mezzo di una società a responsabilità limitata. Le quote sociali di quest'ultima società e l'intero compendio aziendale saranno invece ora gestite da un amministratore giudiziario.